ciao a tutti benvenuti al nuovo video sardegna world oggi ci troviamo a calamoresca come potete vedere alle mie spalle si vede già i colori del mare quindi non aggiungo altro per adesso come sempre vi invito a iscrivervi al canale a lasciare un like e attivare la campanella adesso vi lascio qua e vi facciamo vedere il sentiero per arrivarci poi vi faremo vedere anche la spiaggia in sé e per sé ciao a tutti ciao iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale 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 Grazie a tutti. 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 Quindi dietro Calamoresca. Vi faccio vedere questo forno che veniva usato per la calce. Da qua si può vedere bene. Questo risulta praticamente alle spalle della spiaggia. Alle sue spalle c'è Capofigari. Quello vedete lassù ci si vede proprio la struttura del semaforo. L'acqua non è congelata di più. E' molto questa mettermi con la luce alle spalle da farvi vedere ancora meglio i colori. Come è andata? Vi è piaciuto? Per oggi è tutto. Noi vi lasciamo. Speriamo che vi sia piaciuto il nostro video e vi aspettiamo molto volentieri alla prossima volta. Ciao a tutti. Buona giornata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.